Fabio Battistini, siamo ormai alle ultime giornate, il rush finale, il momento in cui forse anche i bolognesi si stanno rendendo conto che ci sono le elezioni, ricordiamo che si vota il 3 e il 4 di ottobre perché ci sono alcuni passaggi importanti, tanti temi ovviamente che entrino in una campagna elettorale. Prendo l'ultimissimo di queste ore, si possono cadere le tasse al Comune a Bologna? Non solo si possono, si devono. Dai bilanci del Comune risulta che c'è un avanzo di 70 milioni di euro, per tradurre volgarmente a chi ci ascolta, 140 miliardi delle vecchie lire. Questi soldi non sono dell'amministrazione ma sono di tutti i cittadini. Io credo, parafraso Draghi, se posso, se non è stonato l'esempio, non è il momento di prendere ma è il momento di dare. Allora io dico di ridare, sono soldi dei cittadini. Come possiamo ridare nelle tasche dei cittadini? Il Comune ha una leva, quella fiscale, ad esempio nell'addizionale IRPEF. Alzerò la quota di esenzione, un provvedimento che si può prendere nei primi giorni. Da 15 mila euro di esenzione la porterò a 50 mila. Tradotto cosa vuol dire? Sotto i 50 mila euro non si pagherà l'addizionale IRPEF. Ancora, in che quota si paga? 0,8 del redditi è la quota massima che il Governo stabilisce e che il Comune di Bologna ha accettato, la abbasserò allo 0,5. Poi ancora un provvedimento per quanto riguarda le tasse dell'immondizia, per rendere chiaro il concetto, per le botteghe, gli artigiani, secondo i codici Ateco che hanno subito cali di reddito in periodo Covid, li vedremo di ridurle, azzerarle se sarà possibile. Non sono promesse vane perché nei primi 100 giorni, ma io dico anche nei primi 50, misureremo questa cosa. Non sono soldi nostri, ma sono soldi dei cittadini. Le nostre interviste per strada, in questo caso siamo al Pilastro, un quartiere simbolo che tante volte finisce ai meglio, non sempre per fatti positivi, anche se volte magari si può anche esagerare, però è un momento dove Pilastro, Piazza Verde, insomma tutte queste cose tornano in qualche modo in campagna elettorale. Cosa ha sbagliato l'amministrazione comunale in questi luoghi? Allora, intanto non è che tornano perché vanno e vengono, restano come ordine di idee. Il Pilastro è Bologna, è Bologna. Ogni situazione può avere le sue cose virtuose e le sue criticità. Qui al Pilastro sento che sicuramente c'è un problema di integrazione, quindi sta diventando e è diventata nel tempo, io non so se per progetto oppure per incapacità di fermare certi flussi migratori che a cascata hanno trovato la possibilità di fermarsi in questo quartiere. Vero è che c'è difficoltà, c'è mancanza di integrazione. Ne conseguono, è fisiologico, problemi di sicurezza. Questa è la serie zona di spaccio. I negozianti non ne possono più. Io incontro dei pensionati, delle signore che stanno facendo la spesa adesso, che neanche mi conoscono. Si avvicinano a me, sembra quasi un tocco di salvezza, cambiamo qualche cosa, ci aiuti. Vanno anche al di là delle legittime aspettative. È quasi un grido che fanno nei confronti delle autorità. Bene, fra cinque giorni, se i cittadini lo vorranno, mi metterò in una posizione di ascolto operativo. Questo sarà il primo quartiere su cui intervenire. Piazza Verdi, via Petroni, in qualche maniera altre strade della città, via delle Moline, via del Pratello. Il grado di insostenibilità dello schiamazzo, del rumore, della terra di nessuno, dello spaccio. Qui non parliamo più di microcriminalità. Qui parliamo, come col questore ci dice, di zone franche alla legalità, ma è impensabile. Una settimana prima delle elezioni, due esposti da parte di comitati cittadini contro il sindaco. Un altro comitato che si costituisce parte civile. Ma questo è un segno concretissimo. A Bologna non si era mai visto che i cittadini non si fidano più delle parole della nostra amministrazione. Oggi abbiamo un candidato sindaco che è dieci anni che governa questa città. Allora mi dico, almeno sotto questo aspetto, dove eri in questi dieci anni? Cosa hai fatto? Lui ci dice carinamente, farò, farò, farò. Io invece dico, cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Come puoi essere credibile sotto questo aspetto? Beh, credo che lo spazio per prendere dei provvedimenti ci sia. Mai abbiamo sentito una dichiarazione di Lepore, piuttosto che di Merola, che deve dire chiaramente, sto dalla parte dei bonghi o sto dalla parte di quelli che vogliono riposare. La scelta è facile, la scelta è facile. Ci sono gli organi di polizia che sono poi quelli deputati a gestire l'ordine pubblico che hanno bisogno di una copertura politica, di un'unione di intenti diversi. Sotto questo aspetto l'assessorato alla sicurezza sarà la prima cosa che nell'architettura istituzionale andrò a proporre, a mettere in piedi, a realizzare. Una cabina di regia che risolva i problemi veri con risposte vere. L'assessorato in realtà lei ha detto che toglierà l'assessorato alla cultura. Lepore invece ha risposto dicendo no, addirittura la delega della cultura l'atterrò io come sindaco. Perché vuol togliere l'assessorato? Mi fa piacere che Lepore mi segua così come nel recovery plan, nell'attenzione alle politiche familiare. Va bene, vuol dire che il nostro è una pista giusta. Facciamo un ragionamento. La cultura non è un qualcosa che deve partire dall'alto. Noi abbiamo un'idea profondamente distorta. La cultura è espressione della politica. La cultura deve partire dal basso, casomai l'organizzazione la promuove, la veicola. Ma ribaltiamo il termine fondamentalmente, ribaltiamo il paradigma. E allora consentiamo alla cultura che parte dal basso tutti quegli strumenti fondamentalmente che possono rivitalizzarla dandogli delle risorse. Parlo di bond, sono delle obbligazioni. Il discorso può essere un po' complicato. Ma piuttosto che non avere degli aiuti pubblici a pioggia che il governo se ce li darà li terremo, si badi bene, delle obbligazioni emesse dal sistema museale, dal teatro comunale, almeno per un terzo degli aiuti che ricevono, della loro capitalizzazione, delle obbligazioni, i cittadini che vorranno sostenere la cultura li sottoscriveranno, a scadenza potranno rinnovarlo piuttosto che ritirare i loro soldi. Per dire che cosa? Autonomia a chi progetta, a chi realizza cultura. Non sarà l'assessore che ha simpatia per la poesia piuttosto che non per l'arte o la cultura o che abbia una linea politica riguardo alla cultura che deve dare l'indirizzo, che parta dal basso. Mi farò garante, ecco perché chiedo la delega, la cultura di questo sistema, che parta dal basso. La cultura non si impone. Senta, allora, lei è partito a dicembre, quindi diversi mesi, diciamo, è ovviamente un bolognese doc, perché conosce questa città da tempo. Qual è il rapporto con i partiti? Che inizialmente non è partito benissimo, anche se alla fine le ha dimostrato di essere un civico, perché i partiti alla fine sono arrivati loro su di lei. Io non ho la tessera di partito, questo se vogliamo nulla aggiunge, nulla toglie. È un dato. Mi sono proposto alla città a dicembre, in un percorso di ascolto di qualche proposta, con cittadine, con cittadini, associazioni di varia natura, di varia importanza, enti di promozioni, piccoli partiti, hanno riconosciuto nel percorso del sottoscritto un punto di riferimento in prospettiva di queste amministrative capacità di ascolto, capacità di dare proposte. Al termine, o quasi al termine, di questo percorso, i tre partiti più significativi dell'opposizione, la mia cifra è stata coraggio e discontinuità. Io non ho chiesto un political pass a chi mi appoggiava. Non parlo di destra o di sinistra. Parlo a tutta la città, tutta, ampia, che non si riconosce nell'amministrazione uscente. Qui la scelta di campo è chiaro, evidentemente. I partiti sono arrivati a luglio. Ho detto loro grazie, grazie per la fiducia, grazie per l'aiuto che sapranno darmi. Il mio percorso non si è spostato di un centimetro. Ultimi giorni di questa campagna elettorale, come li passerà? Per strada, incontri? Come sta funzionando questa campagna? Per strada, per strada, per strada, sicuramente. Allora qui escono e tocchiamo con mano i problemi di Bologna. È interessante notare, perché questo me lo dicono, me lo dice la mia esperienza di cittadino, me lo dicono i cittadini, i problemi non è che siano tantissimi, è che sono sempre quelli da tanti anni. Degrado, sicurezza, qualcosa abbiamo detto, la mobilità. Noi non abbiamo sentito risposte convincenti. Della situazione della sicurezza, nelle piazze del centro abbiamo detto, qui al pilastro credo che si perda tempo solo a poterlo, a doverlo ricordare. Il degrado, i portici patrimonio dell'UNESCO sono degli orinatoi, sono tutti pieni di graffiti, via San Vitale. Ma voi pensate, l'assessorato alla cultura, che nel tabellone, nel cartellone, bando comunale, per il tabellone estivo di Piazza Verdi, di fronte al teatro comunale, ha vinto una cooperativa, per carità, di cui la massima espressione che noi riconosciamo erano i conteni che erogavano birra. Ecco, io credo che si possa alzare il livello. Poi da lì le situazioni di degrado e non solo la mobilità. Il traffico, la tangenziale, che è piena, si ingorga, non solo nei cosiddetti ori di punta, ma anche in altri momenti. Tre quarti d'ora per attraversare da un lato a capo della città. Chi deve lavorare? Sono costi sociali, sono perditi di tempo vero. Suggeriamo un'altra arteria, il passante sud, da Sassomarconi a San Lazaro, per lasciare aperta il tratto autostradale quando sarà finito l'annello sud a tutto il traffico cittadino. No, la soluzione che ci viene proposta è canterizzare, aprire dei cantieri per qualche anno almeno sull'attuale tangenziale per ricavarne solo una corsia in più. Io non oso pensare cosa voglio dire aprire dei cantieri adesso in tangenziale. Proviamo a immaginarlo, un disastro. Quindi, anche sotto l'aspetto della mobilità del traffico, si può intervenire. Un programma aree già identificato di almeno 2.000 parcheggi in più. Ma io dico e chiudo, un segno, un sasso nello stagno dell'immobilismo. Questo che io voglio dire. Arriveranno i soldi del recovery plan. È un'opportunità veramente straordinaria che io voglio aprire ai cittadini. Non c'è un consociativismo, non nelle stanze da qualche parte di qualche partito. Uno strumento è la fondazione di partecipazione per consentire la partecipazione a tutti i cittadini per gestire con progetti seri e veri questa opportunità enorme. Il sindaco sarà garante di tutto questo. Sant'Orsola, e poi chiudo anch'io, Sant'Orsola, Università, la proposta è di decentrare queste strutture. Anche qui un ragionamento, grazie per la domanda. Nel mio programma, sotto il titolo Spunti di riflessione, Spunti di riflessione, non sono domani mattina farò questo. Esempio, se potremmo potuto citare anche la fiera. Faccio un esempio solo che è emblematico. Milano, la fiera, in centro a Milano ha ingolfato una situazione di un quartiere, il flusso di visitatori ingolfava il traffico ordinario della cittadinanza. Qualcuno ha pensato, 2005-2006, di spostare la fiera a portarla a Pero o Ro. In quella zona, eccoci qua, oggi c'è Milano City Life, modernità, commercio, attrazione turistica, attrazione di affari. Questo io voglio dire. Nel ragionamento che dice che oggi le principali aree attrattive e generatrici di traffico sono a ridosso dei viali e di un centro storico che ha attristiche di struttura medievale, è impensabile che nella Bologna del 2030 questo resti imbutabile. È impensabile. Lancio anche lì un sasso nello stagno contro l'immobilismo. Vogliamo pensare oggi, questa amministrazione ne è stata incapace, alla Bologna che verrà, non ci saremo trovati con la tangenziale vecchia a metterci delle toppe se qualcuno 15 anni fa si fosse posto il problema. Io lo vorrei fare adesso. Grazie Fabio Battistini. A voi, grazie per l'attenzione.